In realtà c'era poco tempo per salvarli a quanto pare, però questo è da vedere, ormai stanno facendo le indagini. C'era una recinzione, ho visto una recinzione, adesso non so, però ho visto che quell'area era recinta, recintata con una catena, perché era una cosa recente. Però meglio chiederle ai responsabili della solfatare e poi agli altri. Io faccio il vulcanologo, quindi mi occupo più che altro di vulcani e geologia in genere. Il cratere della solfatare è un'area che da tempo viene frequentata dai turisti e ci sono zone stabili e sicure, altre zone che invece sono recintate, appunto perché presentano alcuni rischi connessi sia all'instabilità sia alla presenza di gas.